Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito, con una posizione di primo piano in alcuni dei principali mercati continentali, tra cui Francia, Germania, Italia e Austria. Amundi può contare sulle competenze di oltre 5.000 professionisti dislocati in 37 paesi e dispone di 6 hub di investimento globali, a cui si aggiungono piattaforme di investimento nazionali. A luglio 2017 Amundi ha finalizzato l'acquisizione di Pioneer Investments da Unicredit per un controvalore complessivo di 3,5 miliardi di euro. Grazie a questa acquisizione il gruppo oggi gestisce asset per oltre 1.400 miliardi di euro. L'operazione offre una serie di importanti sinergie commerciali che potenziano le capacità di distribuzione di Amundi Nord America e rafforzano il portafoglio prodotti, arricchendo le soluzioni di investimento a disposizione della clientela, soprattutto nell'area Asia Pacifico e Medio Oriente. Quotata in borsa da novembre 2015, oggi Amundi è la prima società di gestione in Europa per capitalizzazione di mercato e la quinta a livello globale con un solido modello di business imperniato su centralità del cliente sul cliente, robuste piattaforme tecnologiche e ricerca continua dell'innovazione. Grazie a tutti.